Ciao, oggi voglio parlarti dell'intestino ed è perché secondo me dovresti assolutamente prendertene cura. Ti consiglierò sette alimenti che a mio avviso dovrai appunto mangiare per andare a proteggere l'intestino e infine ti darò una ottava imbeccata, quindi una sana abitudine che dovrai in qualche modo fare tua per appunto proteggerlo e tenerlo sano nel tempo. Perché l'intestino è così importante come organo? Perché è l'organo che permette di assimilare i nutrienti, in particolare il cibo che viene digerito e i nutrienti al suo interno devono appunto passare attraverso la parete intestinale, che la devi pensare come tante dita, si chiamano villi intestinali come appunto delle dita che permettono il passaggio nel sangue dei nutrienti di cui noi abbiamo bisogno nella nostra vita. Ebbene, devi sapere che negli ultimi anni della ricerca medica abbiamo capito in realtà che l'intestino ha molte più funzioni e sono funzioni vitali di tale importanza che non puoi non avere appunto una conoscenza ben approfondita appunto delle funzioni e delle proprietà che ha questo organo. Oltre alla funzione digerente, l'intestino devi sapere che è fondamentale perché accoglie al suo interno il famoso microbiota. Di microbiota sicuramente ne avrai sentito già parlare, però in parole molto semplici il microbiota è un insieme di batteri che appunto sta all'interno dell'intestino, un insieme di colonie, almeno 30-35 ceppi di batteri diversi che sono assolutamente indispensabili per la vita. Perché questo? Perché questi batteri da una parte ti permettono di digerire e quindi di stare bene, stare in salute, dall'altra sono fondamentali per le tue difese immunitarie. Se sta bene il microbiota e quindi se stando bene i batteri all'interno del tuo intestino funzioneranno benissimo le tue difese. Un esempio semplicissimo che ti posso dare è che la vitamina D3 senza il microbiota noi non potremmo né metabolizzarla né assumerla. Quindi semplicemente il microbiota è il protagonista nella produzione e nell'assimilazione della vitamina D3 che per noi è di vitale importanza. Devi sapere che alcuni anni fa dei ricercatori avevano trovato dei neuroni. I neuroni sono le cellule che vanno a costruire come mattoncini il nostro cervello e tutti i nostri nervi a livello dell'intestino. Fino a poco tempo fa la medicina si era fermata, quindi la ricerca medica si era fermata a descrivere solo questo aspetto, ma non aveva capito assolutamente il perché della presenza di neuroni a livello intestinale. Da pochi mesi, direi fondamentalmente nell'ultimo anno, sono uscite molte ricerche invece che hanno evidenziato come ci sia un vero e proprio cervello, devi pensare a un secondo cervello, quindi a un'organizzazione di neuroni che attraverso reti tra di loro e reti neuronali con il nostro cervello vanno appunto a svolgere numerose funzioni. Questo secondo cervello localizzato appunto a livello intestinale interviene in tante funzioni, ad esempio negli stati d'animo, quindi in maniera positiva possiamo avere una situazione di benessero, mentre in senso negativo può partecipare a determinare degli stati d'ansia e degli stati ad esempio di depressione. Per questo e per tanti altri motivi ti voglio ricordare quindi che l'intestino è un organo di cui tu ti devi occupare quotidianamente, cioè la salute dell'intestino è fondamentale e quindi ho il piacere di dirti 7 alimenti che a mio avviso devono essere nella dispensa o comunque nel frigorifero di casa quotidianamente che sono importanti per la flora intestinale, quindi il microbiota e in generale per far funzionare al meglio il tuo intestino. Il primo alimento di cui ti voglio parlare se segui il nostro canale l'avrai già sentito un sacco di volte e sono le fibre. Perché le fibre? Le fibre in pratica si ritrovano innanzitutto nelle verdure, vegetali e nella frutta. Le fibre sono importantissime perché aumentano il volume del cibo che noi andiamo appunto a ingerire, danno una mano alla salute dei batteri, quindi del microbiota e dall'altro vanno a rallentare il transito intestinale e quindi vanno a ridurre il picco glicemico. Anche di questo ne abbiamo parlato in un video che mi fa piacere di metterti in descrizione e se non lo hai visto magari vai a dare un'occhiata perché è un video davvero importante. Al di là di tante parole, un primo passaggio che puoi fare, un consiglio classico, è quello di semplicemente mangiare più fibre. Come fare? Mangia il solito pranzo, mangia la solita cena, però semplicemente inizia con una bella insalata mista. Magari ci puoi mettere delle verdure verdi dove aggiungi dei semi di lino, di chia, della frutta secca e quindi per riuscire a fare un piatto che sia ricco di fibre, che sia anche ricco di colori perché in qualche modo ti invogli e ti predisponga subito bene per il pasto che andrai ad affrontare. Il secondo alimento di cui ti voglio parlare sono i probiotici. Questo parolone alla fine è molto semplice, cioè si tratta di alimenti che hanno dei batteri buoni che quotidianamente devi introdurre con la tua alimentazione. Dove li trovi? Li trovi negli alimenti fermentati. Basti pensare allo yogurt, allo skir, al kefir o anche ad esempio allo yogurt greco. Questi sono tutti alimenti che hanno all'interno i famosi fermenti lattici vivi e comunque colonie di batteri che vanno in maniera diretta a integrare e ad aiutare il microbiota, quindi i batteri che sono già presenti nel tuo intestino. In parole semplici, cosa devi comprare al supermercato? Ti dico subito, i prodotti bianchi, che vuol dire? Lo yogurt intero o anche parzialmente scremato, il kefir, lo skir, però prendili bianchi. Se ci vuoi aggiungere un po' di frutta, vuoi avere un po' di gusto e magari il sapore acidulo del kefir, che a me in realtà tanto piace, ma a te può non andare, lo vai ad addolcire semplicemente aggiungendo della frutta tagliata a pezzi, magari frutta fresca. Credimi, sarà più gustoso, quindi ti farà piacere, ma sicuramente sarà molto più sano rispetto a che andare a comprare degli yogurt dove vi è stata aggiunta magari purea di frutta e zuccheri, di cui sinceramente non solo non hai bisogno, ma sono zuccheri che vanno anzi a squilibrare il tuo microbiota, e quindi la tua flora batterica e vanno magari appunto a ridurre le tue difese. Terza categoria di alimenti di cui ti voglio parlare sono questa volta i prebiotici, cioè sono quelle fibre, quegli alimenti che aiutano la proliferazione dei batteri buoni. Fra i prebiotici più importanti ci sono ad esempio l'aglio, la cipolla, i ceci, ci sono ad esempio i crauti. I crauti sono cavolo fermentato, se ti posso dare un consiglio magari evita i crauti che nelle lavorazioni sono addizionati con conservanti e soprattutto che sono pastorizzati. Si capisce che crauti pastorizzati ovviamente non abbiano più un buon contenuto di batteri buoni e comunque non possono dare il massimo apporto benefico. Quarta categoria di alimenti sono gli omega 3. Gli omega 3 sono dei lipidi molto importanti, quindi dei grassi buoni, che vai a ritrovare ad esempio nel pesce azzurro o nel salmone. Ricordati compra il salmone selvaggio, non il salmone di allevamento perché come magari già ben sai il salmone di allevamento non ha dei buoni valori nutrizionali, quindi cerca appunto il salmone selvaggio. In alternativa lo puoi trovare nei semi oleosi come ad esempio i semi di lino, i semi di chia e anche nella frutta secca. Ricorda ad esempio magari una manciata di noci o una manciata di mandorle per arricchire magari un'insalata quotidianamente e possono dare una grande mano al tuo microbiota. Gli omega 3 hanno un'importante attività antinfiammatoria e quindi non solo vanno a sfiammare l'intestino ma vanno anche ad aiutare quindi le difese immunitarie e a ridurre lo stato di infammazione generale di tutto il corpo. Quinta categoria di alimenti l'olio extravergine di oliva e in generale gli antiossidanti. Sugli antiossidanti ho già fatto un video che ti vado a linkare giù in descrizione. Gli antiossidanti sono importanti perché ci permettono di rallentare l'invecchiamento cellulare e quindi l'invecchiamento del nostro corpo. In particolare l'olio extravergine di oliva è un alimento veramente d'oro in tutti i sensi, nel senso che rappresenta un alimento per carità grasso ma un grasso buono che permette di migliorare fortemente il profilo lipidico del tuo corpo e quindi per capirci bene di abbassare i trigliceridi e il colesterolo cattivo. Permette anche di lubrificare l'intestino e all'interno soprattutto l'olio nuovo, quindi l'olio che si può gustare a novembre-dicembre è ricco di polifenoli, di antiossidanti potentissimi, praticamente più potenti che troviamo in natura e quindi sicuramente quando puoi cerca di consumarne tanto e soprattutto quando c'è l'olio nuovo un consiglio che ti posso dare è quello di andarlo addirittura a surgelare in bottigline così che potrai avere tutto l'anno un po' di olio nuovo buonissimo e sano per poter fare, visto che sono un toscanaccio, una buona bruschetta col pane abbrustolito. Un consiglio che ti posso dare è quello che faccio io tutti i giorni la mattina a colazione è quello di aggiungere al kefir o allo yogurt, io sinceramente alterno, i frutti di bosco, è un consiglio che ti do. I frutti di bosco sono rappresentati dai mirtilli, da lamponi, dalle more, sono delle vere piccole bombe di antiossidanti, hanno un sacco di nutrienti e di sali minerali e vitamine che aiutano il nostro sistema immunitario e che vanno appunto a proteggere non solo il nostro intestino, ma la salute di tutto il nostro corpo. Sesto punto, devi bere tanta acqua perché se bevi acqua il tuo intestino sarà ben idratato e quindi riuscirà al meglio la peristalsi, quindi la funzione di digestione del tuo intestino. D'altro canto situazioni di disidratazione molto spesso portano a un quadro clinico di stipsi e quindi in maniera molto semplice alla difficoltà appunto di andare in bagno. Settimo punto è rappresentato sicuramente dallo zenzero, dalle erbe aromatiche e dalle spezie. Devono essere nella tua dispensa perché da una parte lo zenzero, da una parte le erbe aromatiche, quelle della nostra tradizione mediterranea, quindi il rosmarino, il timo, la salvia, sono diciamo delle erbe che riescono non solo a dare aroma e sapore alle nostre pietanze, ma riescono a dare un ottimo apporto di antiossidanti molto potenti che servono appunto alla salute dell'intestino. Le spezie con un atto, cioè con un pizzico che va ad arricchire le tue pietanze, magari un risotto ma magari anche semplicemente un'insalata o delle verdure cotte, credimi alla lunga darà una gran mano al tuo intestino e quindi alle tue difese immunitarie e semplicemente andranno a rallentare il processo di invecchiamento. Toccati tutte e sette questi punti ti voglio dare l'ultimo bonus che ovviamente se segui il nostro canale saprai benissimo di cosa sto per parlare ed è di fare un po' di movimento. Devi sapere che il movimento fa bene alla salute di tutto il corpo ma il movimento serve anche dopo pranzo o dopo cena, è ovvio che deve essere un movimento blando. La camminata fa molto bene alla digestione, questo lo sapevano già i greci e i romani migliaia di anni fa e quindi il consiglio che ti posso dare è che appena mangiato magari esci fuori a fare due passi. La camminata o in generale un'attività fisica moderata serve a migliorare la tua digestione e serve ad aiutare l'intestino nella peristalsi, quindi nella sua funzione di digestione e di espulsione appunto delle feci. Bene, siamo arrivati alla fine, spero con questo video di averti fatto capire quanto è importante l'intestino come organo. Se ti è piaciuto questo video non esitare a mettere un bel like, ti ricordo di iscriverti al canale e ciao e al prossimo video!